Omega Simaster Ploprof, l'icona dell'esplorazione subacquea e dell'innovazione tecnica. Nel vasto universo dell'alta orologeria, il modello Simaster Ploprof emerge come un autentico simbolo di esplorazione subacquea e innovazione tecnica. Questo eccezionale orologio subacqueo rappresenta l'apice della progettazione ingegneristica per le immersioni profonde, unendo funzionalità marina a estetica sofisticata. Il modello Simaster Ploprof, abbreviazione di Plonger Professionnel, in francese, subacquei professionisti, è frutto di un impegno duraturo nel campo delle immersioni profonde e della creazione di orologi che resistono alle pressioni dell'oceano. Questo orologio è stato sviluppato in collaborazione con subacquei professionisti, rendendolo uno strumento ideale per le esplorazioni marine. Una delle caratteristiche più evidenti del modello Simaster Ploprof è il suo design tecnico e funzionale. La cassa spessa e robusta, spesso realizzata in acciaio inossidabile, contribuisce alla sua straordinaria resistenza all'acqua e alla pressione. Il quadrante, con ampi indici e lancette luminescenti, assicura una leggibilità ottimale anche nelle profondità oceaniche. Il Ploprof presenta la corona avvitata e posizionata a ore 9 e protetta da apposite spallette. Questa esclusiva posizione facilita i movimenti del polso ed evita le manipolazioni involontarie, rendendola quindi ideale per sommozzatori professionisti. La lunetta subacquea bidirezionale del Ploprof viene bloccata e sbloccata con il caratteristico pulsante di sicurezza posto a ore 2. L'innovativa valvola dell'elio, situata al lato della cassa a ore 4, contribuisce a prevenire danni durante le decompressioni in ambienti ad alta pressione. Molte celebrità famose e subacquei noti hanno scelto il Seamaster Ploprof, contribuendo ad incrementarne la notorietà come icona di stile e strumento affidabile per l'esplorazione marina. Che sia utilizzato per le immersioni o come accessorio quotidiano, questo orologio sarà sempre un simbolo dello spirito esplorativo e dell'apprezzamento per l'arte orologera di alta qualità. Grazie. 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 Grazie.